Continua a tenere banco il caso dell'unità terapia intensiva neonatale UTIN dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La direzione sanitaria della ASL IONICA, a fronte di una riduzione delle risorse mediche, ha comunicato in prima analisi una serie di interventi. I medici dell'UTIN saranno supportati dalle unità operative di ostretrice e ginecologia e di anestesia, alla fine di garantire le migliori cure ai bambini e alle bambine appena nati. In seconda istanza, per i casi più complicati, sarà attivato lo STEN. Il sistema di trasporto in emergenza del neonato presso la Policlinico di Bari. Scelte che hanno suscitato una corposa serie di reazioni negative e cariche di preoccupazione. Secondo Giampaolo Vietri, consigliere provinciale e comunale di Taranto di Fratelli d'Italia, le rassicurazioni del direttore generale dell'ASL non convincono in merito alla paventata chiusura dell'unità di terapia intensiva neonatale a Taranto. Si parla di un'emergenza temporanea, dice, ma nulla si dice della mancanza di programmazione che impedisce a questo e altri reparti ospedalieri di garantire al personale sanitario e ai pazienti una normalità che purtroppo manca da diverso tempo. Secondo Vito De Palma, consigliere comunale di Ginose, coordinatore cittadino di Forza Italia, il ritornello è sempre lo stesso, carenza di medici e quindi è sufficiente un'indisposizione o un periodo di ferie di uno o più specialisti per mandare in tilt un'unità di terapia intensiva essenziale, quella neonatale appunto, costringendo a trasferire a Bari i casi più critici. Per la presidente dell'associazione Giorgio Di Ponzio, Carla Lucarelli, l'Utin non chiude ma è comunque declassata. Questo vuol dire che tutti i neonati con meno di 32-34 settimane di età gestazionale verranno trasferiti nel centro AB, ovvero a Bari, e il disagio sarà grandissimo. Qualcuno parla di quattro casi l'anno, dice Lucarelli, a noi risultano molti di più ma non cambiano i termini della questione. Non è possibile che una delle più importanti realtà del paese continui a subire tagli e declassamenti.